Nel ritiro in Trentino sabato il Milan femminile ha giocato la sua prima amichevole stagionale, vittoria 3-1 contro il Merano, doppietta di Vigilucci e gol di Onus Haidt, che finalmente dopo i tanti infortuni che ha subito da quando è arrivata in rosso-nero si è lasciata alle spalle questo momento negativo. Le ragazze di Gans continueranno ora la preparazione per il campionato perché la stagione ufficiale inizierà a metà settembre. Ci saranno altri amichevoli ad iniziare dal torneo di Madrid di fine agosto e ovviamente si attende sempre l'arrivo delle calciatrici che sono impegnate ancora al campionato del mondo in Australia e Nuova Zelanda.